Grazie e grazie per l'invito. Quando ho ricevuto l'invito da Thomas che conosco da un po' di tempo ho ricevuto da qualche ex collega dei messaggi, ma che sei matto? Lì ci sono persone che non la pensano come noi. Grazie a Dio. Oppure, ah lì hanno delle teorie economiche strampalate, vengo a parlare di quello che voglio io, parlo sempre delle mie cose. Cioè questo è un primo enorme problema. Venivo con il motorino e pensavo adesso ci saranno i giornalisti fuori, le stesse domande di solito, occhio a non dire quella cosa perché te la strumentalizzano, invece le ho dette. Vedrete, insomma, ci saranno un po' di polemiche per certe robe che ho detto su Draghi, ma se iniziamo veramente ad avere timore delle strumentalizzazioni rispetto a determinate idee, è inutile parlare, è inutile avere delle idee, è inutile esporsi. Facciamo i moderati, i liberali, come tutti quanti, viviamo più tranquillamente, è una bella carriera. Io sono stato un leader, diciamo così, importante, politico, molto seguito. Banalmente potevo farmi gli affari miei e rilasciare due o tre interviste accomodanti perché poi funziona così. Io vedete ho avuto l'enorme fortuna, oggi scrivo, è quello che mi piace fare. Scrivo quello che mi pare, mi pubblicano tutto quello che voglio, anche perché sono abbastanza seguito, non perché sia Amy and Wade, lo dico sempre. Però ho anche la fortuna di essere stato all'interno del palazzo, quindi so come funziona anche la comunicazione mediatica e la comunicazione mediatica politica. Le interviste per i politici non servono mica per creare consensi, perché la maggior parte delle persone non legge più, per me anche giustamente oggi i quotidiani nazionali, perché veramente l'omologazione e il conformismo che c'è oggi non vi era neanche all'epoca di Berlusconi. Le interviste servono un po' come pizzini, tra virgolette, o come siamo più politicamente corretti, i piccioni messaggeri, per lanciarsi messaggi appunto tra politici, per non schierarsi, perché il politico oggi come il giornalista non si schiera, ma per posizionarsi, sono due cose diverse schierarsi e posizionarsi. Io sto lì, con questa intervista te lo dico, quindi occhio, ricordati di me. Come diceva Guzzanti, che imitava Rutelli, a Berlusconi, ricordati degli amici. È così. Io ebbi una soffiata da un attuale esponente importante del governo, non del Movimento 5 Stelle, ad agosto 2020, e mi disse che una parte di Sistema Italia stava lavorando per la sostituzione di Conte con Draghi. Me lo disse ad agosto, il primo agosto del 2020. All'epoca avevo conosciuto da poco Giulio Gambino, direttore TPI, gli dissi Giulio voglio iniziare un po' a collaborare con voi, e scrisse un articolo contro Draghi, rispettoso, ma contro Draghi, nel senso ricordando una serie di, per me, di vergognose azioni che fece. Un pezzo che è anche molto successo, e quelli sono i classici momenti di passaggio, no? C'ho la soffiata, la posso pure utilizzare a mio vantaggio. Scrivo un articolo diverso, non l'apostolo dell'elite, ma serve responsabilità e credibilità internazionale, e il titolo era questo, io oggi faccio il Ministro della Repubblica. È così, funziona così. Uno poi può essere non d'accordo o meno con le mie idee, legittimamente. Per oggi quel che manca alla classe politica, al sistema mediatico, è il coraggio e la credibilità. Il coraggio. Anche io ho cambiato idea, sono cresciuto, sono entrato in Parlamento nel 2013, ero più giovane, non ero padre, ero più manicheista. Ritenevo che l'onestà fosse la qualità principale di un politico, oggi non la penso così, e non perché abbia degli scheletri nell'armadio, per l'amor di Dio, perché l'onestà deve essere un prerequisito. Ma oggi la caratteristica principale, la qualità principale di un politico giornalista deve essere il coraggio, il coraggio di schierarsi. Non voglio fare pubblicità al mio libro, contro, lo trovate in tutti i libri, scherzo. Io sono stato nel Libano, io ho visto i cimiteri di Shatil e Shabra, vabbè Shabra e Shatila. È una cosa che angoscia vedere questo cimitero dove sono sepolte le vittime di quell'orrendo massacro. I responsabili di quel massacro orrendo è ancora il governo in Israele. Va baldanzoso di questo massacro fatto. È un responsabile a cui dovrebbe essere dato il bando dalla società. È stato un massacro, mi hanno detto quelli del posto, tremendo, quante vittime ha fatto. Questo lo disse il Presidente Pertini, il Presidente della Repubblica, in un messaggio alla nazione il 31 dicembre 1983. Tra l'altro i massacri, l'anniversario dei tragici massacri di Shabra e Shatila, penso sia stato tre giorni fa. Il Presidente della Repubblica che se la prende direttamente, credo che ce l'avesse con Sharon, con un membro di un governo di un importantissimo paese come Israele. Oggi questa roba sarebbe, è impossibile. È impossibile ascoltare, vi ricorderete Craxi quando parlava della lotta di liberazione della Palestina, prendendo le posizioni scomode. Impossibile oggi ascoltare questa roba qua. C'è una tale omologazione su tutto, per cui quando alcuni miei ex colleghi mi hanno detto ma vai lì, lì ci stanno persone pure con i quali abbiamo scazzato in passato, a me non me ne frega niente. Io non posso adesso, in questa fase della mia vita, avallare il conformismo evitando di prendere delle posizioni, avendo timore delle strumentalizzazioni e delle posizioni stesse. Non è possibile, non mi guarderei più allo specchio, non sarei più un essere umano. E questo è il dramma attuale principale. E questa è responsabilità, non solo della classe politica o del sistema mediatico, ma in primis della pubblica opinione italiana. E lo dico perché? Perché io ho fatto parte di un movimento che nel 2018 ha stravinto le elezioni, anche grazie al mio contributo, perché io feci una campagna elettorale da non candidato che avvicinò tantissime persone, con quel principio della fiducia, tante persone venivano ad ascoltare me davanti ad Arcore quando ho letto la sentenza dell'Utri e sapete quello che ho subito successivamente dai giornali berlusconiani. Quando sono andato alla Terina sotto casa della Boschi, quando sono andato nei luoghi di alcuni rass del Partito Democratico, le persone venivano perché si domandavano, ma se questa persona che non si candida e l'ha già detto, è una persona comunque abbastanza di parola, poi ho avuto le mie incoerenze, però abbastanza di parola, ha detto che uscirà dal Parlamento e così ho fatto, sta lì a combattere per questo movimento, evidentemente c'è da crederci. Quella campagna fu molto importante, si avvicinarono un sacco di persone e prendemmo il 30%, evidentemente non soltanto grazie a me, ma anche grazie a me. Io ho visto poi successivamente un sistematico cambiamento del Movimento 5 Stelle, un'omologazione del Movimento 5 Stelle stesso, dovuto senz'altro alle solite dinamiche interne dei cittadini, degli uomini che entrano in certi palazzi dove vi sono dei privilegi, si vive leggermente o molto staccati dalla realtà per una serie di questioni economiche e anche di status symbol e quindi è normale, anche comprensivo, diceva sempre Beppe, me lo diceva sempre Gianroberto, sempre, è normale che vi siano queste, come dire, debolezze umane. Ma il problema è stata la base in realtà, una parte degli iscritti che si è comportata da tifoso avallando determinate storture dei cambi di comportamento perché ragiona come un tifoso e i tifosi, a parte Emilio Fede, di solito non cambiano mai la squadra di appartenenza. Invece non si può ragionare così. L'errore grande è stato, anche di parte della pubblica opinione, nell'avallare un sistematico cambiamento, una sistematica omologazione che avveniva nella società e poi di contrattare all'interno le forze politiche. Perché oggi le forze politiche sono diventate tutte liberali, moderate, precisine, stiamo attenta ad ogni cosa, perché? Perché anche loro temono i politici, le strumentalizzazioni, quindi quando scrivono un po' su Facebook, un comunicato stampa, lo rileggono 77 volte perché le parole vanno misurate. No, le parole non vanno misurate, le parole vanno pesate, perché le parole devono avere un peso, un grande peso specifico, altrimenti sono parole silenti, non hanno nessun valore. Ricorderete le parole guerriere, chi è del movimento, chi votava, chi stava a Piazza San Giovanni, parole guerriere. E oggi la narrazione che vi è dell'attuale società è del tutto antitetica rispetto alla realtà. E per me di Green Pass, che ne ho sentito parlare, eccetera, eccetera, occhio che parlare esclusivamente di Green Pass è il miglior regalo che si possa fare, lo status quo in questo momento, all'establishment, perché avere come un unico argomento di divisione, di lotta il Green Pass, e io invito tutti a vaccinarsi, tra l'altro, e non lo dico perché devo fare il politicamente corretto, non me ne frega niente, perché sono stato in Bolivia o ho rapporti con, non con il governo, ma con Fabrizio Chiodo che è ricercatore a Cuba, un italiano che sta sviluppando anche dei vaccini cubani, cioè ci sono un sacco di paesi che non hanno nulla a che vedere con Big Pharma, grazie a Dio anche perché problemi, conflitti interessi di Big Pharma, Black Rock e questa roba qui esiste, non è complottismo, che spingono per la produzione e la somministrazione dei vaccini, questo è un dato di fatto, il fenomeno Novax è un fenomeno tipicamente occidentale, questo è un dato di fatto, quindi io lo dico perché io mi sentirei più tutelato, appunto, se più persone possibili si vaccinassero ovviamente, però occhio che qui parlare esclusivamente di Green Pass, questa divisione ma inicheistica tra buoni e cattive non esiste, è un grande regalo, perché tra pochi giorni arriveranno 13 miliardi di euro sul groppone di contribuenti rispetto all'ennesimo salvataggio anzi, non è nessun salvataggio, anzi regalo, unicredit rispetto a MPS e non se ne parla mai, la riforma cartabbia, io sapete, insomma vengo definito giustizialista populista, non lo sono affatto, sono giustizialista, non lo sono, sono assolutamente populista e per me non mi sono mai offeso, ma veramente la riforma cartabbia è una riforma che garantisce a ladri con cospicue forme e disposizioni di denaro di potersi salvare il deretano ed arrivare all'improcedibilità processuale, ed è drammatico, dato che ci sono le televisioni qua e là, ma Conte che ne pensi? Io ve lo dico sinceramente, io come sapete ho fatto pure delle critiche, tant'è che non entra nel governo del Partito Democratico per una serie di cose, anche lì rifiutai quando mi dissero entri tu, entra la Boschi, ho detto meglio di no, meglio che sto fuori io e pur la Boschi, come dire, mi dovreste anche un po' ringraziare. Devo dire, e l'ho detto anche ai ragazzi, a Thomas eccetera eccetera, che è evidente che Conte sia stato fatto fuori essenzialmente per gli scostamenti di bilancio fatti durante la pandemia, questa è una verità storica, perché Draghi garantiva all'establishment europeo un rispetto di quei famosi parametri appunto di Maastricht trasformati poi nel patto di stabilità, che sono tutti quanti d'accordo, più o meno tutti quanti d'accordo, come diceva lui, a farli rientrare, quindi, osti, questi italiani si sono largati troppo, hanno messo troppi quattrini, poi per qualcuno erano pochi, per l'amor di Dio, ma io ero convinto che poi Draghi, in una fase in cui, tra virgolette, servirebbe ancora di più lo scostamento di bilancio, perché la crisi economica e sociale della classe media, via dopo la pandemia, perché tantissimi cittadini, anche i miei familiari, hanno ottenuto i propri risparmi durante la fase pandemica e oggi si ritrovano che in banca non c'hanno più 30 mila euro, ma c'hanno 10 mila euro, per cui se si devono comprare una macchina devo andare in banca a chiedere un prestito, prima se la potevano comprare con 30 mila euro in banca, questa è la dinamica drammatica, oggi servirebbe uno scostamento di bilancio per dare una mano al cittadino e farlo rientrare dal punto di vista sociale ed economico della società, ma per questo conto è stato fatto fuori, Renzi se l'è venduta a destra a manca, chissà per quale ragione, secondo me può fare il segretario generale della Nato e per me questa sarebbe l'occasione fantastica per uscire dalla Nato, ci avremmo il 99% dell'appoggio della pubblica opinione, ma poi in generale tanti altri se lo sono venduto Conte, per questo io lo rispetto perché al netto di alcune posizioni, anche lui crede nel bipolarismo, per me il bipolarismo è una truffa, però gli ho riconosciuto dei valori soprattutto durante la gestione della pandemia dal punto di vista economico e sociale, voi avete le vostre critiche legittime che fa dal punto di vista normativo, lo strumento della decretazione urgenza e quello che diceva lui poc'anzi rispetto alla totale uccisione del Parlamento e del ruolo del Parlamento negli ultimi vent'anni, trent'anni ma soprattutto dal 2013 in poi e questo è innegabile e l'ho vissuto sulla mia pelle come cittadino all'opposizione in Parlamento, però c'è anche da dire diamo sempre a Cesare quel che è di Cesare e secondo me il Conte è stato fatto fuori essenzialmente per questo, l'Italia si è allargata un po' troppo, toccherà prima o poi rientrare nei parametri del patto di stabilità, pensate che Maastricht del 1993, patto di stabilità 97, pensate a quello che è successo dal 93 in poi, tutti i cambiamenti epocali e noi dovremmo stare magari se dovesse rientrare di nuovo all'interno delle regolette decise prima della guerra in Bosnia, prima della guerra in Iraq, prima della guerra in Afghanistan, prima della crisi dei Supreme, prima di adesso della crescita della Cina, dei cambi geopolitici, noi dovremmo ritornare lì. Ad ogni modo oggi, dato che si parla pure di future compagnia cantante, per me la prima cosa che dobbiamo provare a fare un minimo di egemonia politico-culturale nel senso veramente alto di questo termine, pungolare coloro che hanno qualsiasi voce in capitolo, che hanno megafoni a prendere delle posizioni scomode, nette, a non aver paura delle proprie parole, a non aver paura di assumersi delle responsabilità, prendendo posizione chiara, schierandosi, non si schiera nessuno, a me è indignato vedere decine e decine di politici commentare quelle parole terrificanti, deficienti, le parole stupide di quella giornalista ieri rispetto alle donne, una cosa, ma vedere che tutti i politici italiani debbano diventare dei commentatori di quello che avviene, non mi parlano mai di quello che vogliono fare per migliorare la condizione femminile in Italia, perché il dramma è che le donne guadagnino meno, 30% in meno degli uomini, è una vergogna totale, ma preferiscono solo commentare i maneskin, le olimpiadi, il calcio, qualsiasi cosa, quello ha detto quindi, è una roba insopportabile, insopportabile. Non c'è più un politico, un giornalista che prende delle posizioni di un certo tipo, andatevi a leggere le cronache parlamentari degli anni 70 e 80, quello che si diceva in Parlamento, oggi la maggior parte delle persone che pronunciava determinate parole verrebbe bandita dalla società, come chiedeva Pertini rispetto ai massacratori dei palestinesi ai campi profughi in Libano, bandita in quanto politicamente scorretta, terrorista, violenta e basta, basta, io questo cercherò di contrastare, poi vediamo, poi vediamo, ma questo cercherò di fare, perché ho detto poc'anzi che forze politiche nascono dall'individuo che dice, se ci sono delle istanze collettive importanti poi ci assumeremo le nostre responsabilità, vediamo se ci sono queste istanze collettive a che livello, vediamo, però i partiti individualistici sono, uno fa la fine galenda, ci sono dovunque, invece oggi secondo me è un minimo provare a rifare un po' di egemonia culturale, politica e di avere un po' di coraggio di esprimersi e tirare fuori delle posizioni diverse anche in ambito economico, tardi Thomas intervisterà Mosler, ascolteremo quel che ha da dire, ma cavolo si sente un pensiero unico, totale oggi nel sistema mediatico informativo, grazie a Dio ho due figli piccoli e vedo solo i popatroll e non vedo più i telegiornali e veramente imparo di più dai popatroll o dai gormiti che dai giornalisti oggi, secondo me, io vi consiglio di, i gormiti sono interessanti anche a punto di vista sociale e niente, penso che questo è l'unico messaggio che, un altro e l'ultimo lo aggiungo, bisogna essere anche disposti a perdere qualcosa, a schierarsi e ve lo assicuro, ve lo assicuro che ho perso qualcosa, schierandomi e ho perso qualcosa dicendo dei no, che dire no è liberatorio, i sì sono molto molto complicati, alle volte non ti fanno dormire i sì, ma i no ti fanno sempre dormire, credetemi, io ne ero cosciente che a dire determinate non mi sarei infilato in una vita un po' più complicata, ma non potevo fare altrimenti, perché quando si spegne la televisione dopo i gormiti, io i miei figli in faccia li voglio guardare, gli voglio dire di essere coerenti con quelle loro idee, quando ce l'avranno in futuro, combattere per queste idee, perché è l'unica cosa che conta in questa vita, per me è questa qua, per cui vi esorto a schierarsi, a schierarvi, magari non la penseremo su tutto allo stesso identico modo, però santo Dio oggi il livello generale dell'informazione, i conflitti di interesse dell'informazione a cominciare dal gruppo Jedi e dall'impero mediatico degli Elkan, che è una roba che se l'avesse fatto Berlusconi vent'anni fa altro, che popolo viola, manifestazioni, girotondi, oggi passa tutto in cavalleria, pure che Stellantis mi diventa un'impresa francese in quattro e quattro otto, è passato in cavalleria dove stanno, dove stavano i sindacati, in quattro e quattro otto, o accettiamo che uno che ha fatto il ministro dell'economia e delle finanze come Padoan, salvando con denaro pubblico un decreto votato in 18 minuti dal Consiglio dei Ministri, tirando fuori 20 miliardi a debito, 20 miliardi a debito per salvare le banche e 5 e 5 sono finiti in MPS, si fa eleggere dopo qualche mese nel collegio di Siena, pur essendo romano perché ha salvato con denaro pubblico posti lavoro, MPS e compagnia cantante e dopo qualche mese lascia il Parlamento e la Camera dei Deputati dopo aver evidentemente chiesto ai cittadini il voto per portare avanti delle stanze e si fa assumere come Presidente di Unicredit, la banca che oggi sta trattando e non gli stanno manco bene 10 miliardi di fatto di regali pubblici per comprarsi la parte buona di MPS lasciando la bad company allo Stato, alla collettività, ne chiede di più e se la sta comprando Unicredit, ma questa roba, ma perché non c'è un'indignazione col... ripeto, se fosse avvenuto durante l'epoca dei Berlusconi questa roba qua, ma sarebbe scoppiato l'inferno, mediatico più che politico, politicamente il Parlamento avrebbe avallato perché io me le ricordo le parole di Gianroberto. Ultimissima cosa, io credo fermamente nel messaggio di Gianroberto Casareggio, non so se qualcuno l'ha conosciuto, ma veramente quell'uomo stava e a noi ci ha fatto non solo male umanamente la sua morte, ma ci ha fatto proprio male politicamente, ma veramente Gianroberto vedeva in avanti e aveva coscienza che in un mondo sempre di più omologato, in una politica sempre di più succube della grande finanza, il potere popolare intorno al potere politico fosse l'unica soluzione per imprimere una rotta e garantire il rispetto di determinate linee politiche. Quando veniva preso per il culo, cittadini dentro, cittadini fuori le istituzioni, lui intendeva guardate che le lobby, il sistema di potere è così forte che servono intorno cittadini con l'elmetto, non tifosi, ultra soligans, perché spesso la pubblica opinione anche distrugge tutto, non tifosi delle forze politiche, ma cittadini capaci di dire a te parlamentare che stai lì grazie a loro, guarda che stai sbagliando strada e o ti rimetti in carreggiata o cambi tu la strada. Questa era la visione di Gianroberto, è attuale come non mai. A me fondamentalmente al movimento mi hanno costretto ad andarmene essenzialmente perché difendevo la regola del doppio mandato, questa roba qua, questa è la verità e siccome arriva uno che difende una cosa che tutti quanti dentro vogliono cambiare per continuare a stare lì dentro, facciamo sì che in qualche modo esca da, come non so se vi ricordate Pozzetto e Celentano e lui è peggio di me, quando uno dicevo voglio uscire, no no, a me mi hanno costretto in quel modo, io non volevo uscire perché è stato l'amore degli ultimi sette anni della mia vita al movimento, ma non potevo fare altro, non potevo fare altro, essenzialmente è questa ragione qua, perché poi esistono dinamiche molto più terra terra, delle grandi, saranno arrivate delle telefonate dai grandi gruppi finanziari, ma no alla fine certe spiegazioni di certe scelte politiche sono anche molto più basic, credetemi, per oggi come oggi, ragionare anche sul fatto di come costruire sempre di più, in epoca anche, vi ricordate quanto prendevano in giro gli esponenti del Movimento 5 Stelle quando votavamo online il Presidente della Repubblica, guardate che l'online ha permesso negli ultimi giorni di raggiungere comunque centinaia e migliaia di firme rispetto a due referendum che io condivido e supporto totalmente, ho già firmato per quello dell'eutanasia, firmerò successivamente anche quello della cannabis, che probabilmente non si sarebbero raggiunti questi risultati senza la possibilità di farlo online e questa roba già Roberta a noi ce la diceva otto anni fa, otto anni fa e veniva sbertucciato, non considerato, non ha iniziato a valutare quando è morto, qualcuno anche per senso di colpa, però quella visione è ancora molto molto centrale per me, io ci credo tanto, ci credo tanto anche nella sovraetà della politica, ci credo tanto anche nella possibilità veramente del cittadino di farsi istituzione in un tempo limitato della propria vita e poi ritornare alla propria vita, ci credo tanto, ci ho sempre creduto, non è che posso cambiare idea perché oggi magari mi converrebbe di meno, ci ho sempre creduto, è lì il cuore, è così incancrenito il sistema politico in Italia e a me anche il sistema istituzionale che ora riusciamo a scardinarlo da fuori, intesa anche come possibilità di indirizzare, obbligare i parlamentari a rispetto di una linea politica fino alla fine o la contaminazione in quei palazzi dove ci sono stato è, come dire, invincibile, perché sono, abbiamo finito, scusate, grazie a tutti e buon pomeriggio e grazie per l'invito, no, 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 hai ragione, se uno supera i tempi è un grado compito di tenere i tempi, scusate, buona serata a tutti e buona domenica, grazie per essere venuto e speriamo di rifarlo, allora qui stiamo al primo